Amici di Marcosbox, benvenuti o bentornati in questa nuova non recensione, questa volta dedicata a un applicativo che sono sicuro una volta scoperto sarà il vostro applicativo preferito per l'utilizzo sia lavorativo che di divertimento. Quindi è un applicativo che ho scoperto grazie a voi della community Telegram di Marcosbox e consente a questo applicativo di poter condividere file tra dispositivi, quindi sia computer che smartphone, presenti all'interno della stessa rete Wi-Fi. L'applicazione in questione si chiama LocalSend, è gratuita, è open source ed è multipiattaforma. Possiamo scaricarla sui sistemi operativi desktop, la troviamo per Windows tramite Excel, possiamo installarla anche tramite Winget, volendo, magari vi lascio qui in descrizione il link al video che ho realizzato sul funzionamento di Winget che è uno dei migliori modi per poter installare applicazioni su Windows, perché facciamo tutto da riga di comando, da terminale, così come siamo abituati su Linux. Possiamo installarla su macOS direttamente dall'App Store o installando il DMG. Per Linux possiamo installarla in diverse modalità, possiamo scaricare il TAR, possiamo scaricare il pacchetto DEB per Ubuntu, Debian e derivate. Abbiamo il pacchetto in formato AppImage e abbiamo la possibilità di installarlo da FlatTab tramite il formato FlatPack. Se ci troviamo su Arch Linux e una delle sue derivate possiamo installarlo direttamente tramite AUR, infine possiamo installarlo anche sui sistemi Nix, quindi qui troverete tutti quanti i comandi. Io nella fattispecie l'ho installato tramite FlatPack perché era la modalità più semplice per poter installare. Oddio, oddio, potevo installare anche tramite Debian, però ho preferito installare la modalità tramite FlatPack in modo da poterla mantenere poi aggiornata nel tempo. Per Android l'applicazione è disponibile su PreStore, è disponibile su FDroid ed è disponibile anche su Amazon App Store. Ovviamente se ci vogliamo scaricare la pick-up e installare manualmente possiamo anche farlo. Per iOS è presente direttamente sullo store di Apple. Ma vediamo come funziona questa applicazione e le sue meraviglie, diciamo. Allora, basterà avviare l'applicazione sul computer desktop e avviarla anche sullo smartphone. Dove l'ho messa? L'ho messa da questa parte. Eccola qua. Qui potete vedere c'è il nick al nome del dispositivo, viene generato in maniera automatica. Allora, mettiamo il caso di voler inviare un file dal computer a smartphone. Basterà selezionare sull'applicazione presente sul computer, invia. Selezioniamo i file, magari vogliamo mandarci questo video che ho girato l'altro giorno. Clicchiamo su Open. Qui in basso ci comparirà l'elenco dei dispositivi connessi alla stessa rete Wi-Fi che viene rilevata dal local send. Selezioniamo il nostro dispositivo. E una volta selezionato il dispositivo, come potete vedere, compare sullo smartphone la richiesta per poter accettare o rifiutare lo scambio dei file. Noi accettiamo. Il trasferimento è andato a buon fine, quindi semplicissimo. Viceversa possiamo fare anche la stessa cosa se vogliamo che ne so, inviare dallo smartphone al computer. Devo sempre selezionare i file, me ne ero dimenticato. Magari ci mettiamo questa bella foto mia, eccola qua. E la trasferiamo al computer. E come potete vedere anche qui sul computer ci compare la possibilità di accettare o meno. E in maniera, come potete vedere, avete scambiato il file in maniera semplicissima, rapidissima e senza colpo ferire. E possiamo scaricare, possiamo scambiare file, cartelle, anche file di testo, anche contenuto del copia e incolla. Qui nelle impostazioni dell'applicazione possiamo vedere quali sono le opzioni. Quindi possiamo cambiare il tema, possiamo, per esempio, possiamo mettere anche il tema Yaru. Così lo abbiniamo alla nostra Ubuntu. In questo caso, qui esce, riduce, vassoio. Tutte le impostazioni quelle per gestire l'applicazione, per gestire, se la vogliamo lasciare sempre in esecuzione o quant'altro. Qui è possibile personalizzare anche il percorso di salvataggio. Qui nel caso vengono trasferite tutte nella cartella download. Possiamo scegliere anche un'altra cartella nella quale inviare i file. Termina automaticamente l'applicazione quando terminiamo di scambiare i file. Salvare i file nella cronologia. Cambiare l'alias, quello che è stato messo in nickname, che è stato assegnato al computer. Volendo possiamo metterci il nome che vogliamo. E poi qui ci sono qualche altra impostazione. C'è per esempio il tasto per donare all'autore. Stessa cosa, se possiamo vedere, anche nelle impostazioni dell'applicazione per dispositivi mobile. Anche qui possiamo selezionare il tema, possiamo selezionare il colore, possiamo selezionare la lingua di sistema, le animazioni, il salvataggio rapido e quant'altro. Quindi, semplicissima, poche impostazioni, pochi passaggi, però l'applicazione è fantastica. Vi consente di scambiare i file in maniera rapidissima. Non c'è che dire. Complimenti all'autore di questa applicazione. Magari farò anche una donazione all'autore perché è davvero utilissima. Direte voi, infatti, molti di voi si staranno domandando, ma non c'erano già altre applicazioni simili? Anche in ambito Linux per scambiare file, tipo l'applicazione KDE Connect e quant'altro. Beh, sì, ci sono. C'è KDE Connect, c'è Warpinator, però queste applicazioni non sono disponibili su tutte quante le piattaforme. LocalSend è invece disponibile su tutti quanti i sistemi operativi, tutte le piattaforme mobile. Quindi, è un'applicazione che vi straconsiglio. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa applicazione, se già eravate a conoscenza dell'esistenza di questa applicazione. E se invece non eravate a conoscenza, lasciate un commento se vi piace. Gunga vita e prosperità a tutti quanti. Spero faccio così perché adesso lo sto registrando con il telefonino. Dicevo, lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci rivediamo in un prossimo video, una prossima non recensione. Ciao ciao.